Ma è sempre la solita storia, è sempre la solita storia, ma addio care mamma mia, Dove aver fatto un primo tempo, direi equilibrato, nonostante la passata di vantaggio per prima, con Cristiano Ronaldo, la Juve ha pareggiato, meritatamente, con il gol di Mazzucic, poi secondo tempo, Beh, ancora siamo venuti a 85, ma, dato che la Juve è pure in 10, spulso quadrato per doppio giallo, quindi, vabbè, vabbè, dicevo, secondo tempo, ma è veramente, un tracollo veramente incredibile, Fino al sessantesimo, partita equilibrata, su 1-1, in 3 minuti abbiamo preso due gol, quindi, risultato di 3-1, ed è ancora 3-1 per il Real Madrid, non mi manca poco, niente, cioè, non so più che dire, cioè, non devo commentare, cioè, non c'è, Ripeto, il primo tempo è stato equilibrato, ce la siamo giocata, il secondo tempo è successo o che è successo, che cazzo abbiamo fatto, cioè, veramente, c'è da suicidarsi, cioè, è un miracolo che non vada a spaccare la camera, perché, veramente, non la spaccherei, non la farei a pezzi, la camera, stasera, ma è un miracolo che, al momento, non lo faccio, sono qua sul letto, perché, veramente, non so che cazzo fare, sto qua, o meglio solo, che me l'ha accompagnato, no, è, la bella, ma come cazzo si fa, ma sempre la solita storia, ma, mamma e la madonna, mamma e la madonna, mamma e la madonna, Gesù, mamma, Dio, cane, ma come cazzo, madonna, mamma, dopo questo, guarda, ora lo posso dire, l'unica salvezza, giuro su Dio, l'unica salvezza, è andare a fare sta cazzo di crociera, è andare a fare sta cazzo di decima crociera, che, veramente, dopo questa ci vuole, veramente, dopo questa ci vuole, assolutamente, mamma, speriamo che lunedì ha lì buona notizia, speriamo, almeno mi consolo, almeno sorrido un po', perché, veramente, dopo stasera, non c'è da commentare, non c'è da commentare, soprattutto il secondo tempo, il mio tempo, ripeto, è stato equilibrato, ci siamo giocati, però, che cazzo, qui ha due gol in tre minuti, non si può, in dieci, ma, pure, va bene, passo, con questo chiudo, e, risenticci alla prossima, quando ci vedremo, boh, magari, sperando, che arrivi una, appunto, buona notizia, almeno, sulla crociera, così, se dovesse, arrivare buona notizia, farò un video, sulla crociera, per asserrarmi un po', buona notte a tutti, va, vado già a dormire, che è meglio, non so dove accade, mi sbaglio, vabbè, buona notte, va, se la voce,